Cerimonia di premiazione oggi all'emiciclo per la ventunesima edizione del premio giornalistico intitolata ad un grande del giornalismo aquilane abruzzese Guido Polidoro, organizzato dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo con la collaborazione di Biper, Consiglio regionale e Fondazione Carispac. Un momento per ricordare un grande giornalista, uno che pagava il biglietto alle partite perché voleva essere libero di scrivere ciò che vedeva al suo punto di vista. Guido Polidoro è stato un antesignano dell'etica professionale. Noi lo celebriamo ogni anno, siamo arrivati alla ventunesima edizione, un'edizione molto importante. Questo è la dimostrazione dell'impegno dell'Ordine a celebrare questa figura e da lui prendiamo spunto anche per riflettere sull'evoluzione dei valori e della moralità, dell'etica che impregna in qualche modo la nostra professione. La professione deve cambiare, devono cambiare le leggi che regolano la professione, che ci ingestano in una realtà che non esiste più e che sono persecutori e discriminatori rispetto alle nuove forme di giornalismo, ai nuovi linguaggi, alle nuove opportunità di comunicazione che ci sono. È un peccato mortale perché la ricchezza delle nazioni si gioca su questi terreni, i dati, le informazioni. I vincitori del premio sono stati resi noti nei giorni scorsi. Il vincitore è Gabriele Di Francesco, seguito da Floriana Bucci e Anna Fusaro, menzioni per Federica Fardi e Leonora Falci con il premio alla carriera Giovanni Ruscitti. La giulia del premio era composta da Walter Capezzali, Marina Marinucci, Nunzio De Luca, Angela Ciano e Luca Marchetti. Ovviamente è presente anche la famiglia di Guido Polidoro. Sì perché Guido è stato veramente un giornalista, ma un giornalista ad ampio spettro in tutti i sensi e soprattutto la sua caratteristica è stata l'onestà, l'onestà con cui ha svolto qualsiasi funzione sia familiare che giornalistica.